Gordon, ribaltamento, Billups, Durant, tripla e qui si cominciano a mettere i titoli di coda credo, perché oltretutto la Russia non sta mostrando una reazione forte abbiamo visto qualcosa di simile ma verso il finale di partita contro la Lituania nel precampionato mondiale in effetti questa squadra comunque mostra di avere le idee chiare e qui intanto Voronov gli smentisce immediatamente prova a tenere viva la squadra russa che è sotto di 16 però a 7 minuti e 30 guardate cosa ha fatto ha visto l'aiuto che arrivava si è protetto con la spalla è andato contro alla difesa e ha tirato in controtempo scendendo